Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua. Il trio criminale si è spaccato. Quando ho ucciso mia mamma ero convinta che lei volesse ucciderci, ora non ne sono più certa, ho paura che Mirto mi abbia manipolata. Le parole di Silvia Zani, figlia maggiore di Laura Zigliani a processo per omicidio volontario, accusata con la sorella minore Paola e l'ex fidanzato, il lecchese Mirto Milani, di aver ucciso l'ex vigilessa di Temù nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2021 e di aver sepolto il suo corpo vicino al fiume Oglio. La giovane, nel processo in corso davanti alla corte d'assise di Brescia, ha chiesto di rilasciare una dichiarazione spontanea, dopo che nell'udienza del 30 marzo scorso aveva deposto per ore, spiegando, come gli altri due imputati, che insieme tutti e tre avevano deciso di uccidere Laura Zigliani. Ora il colpo di scena e le accuse all'ex fidanzato. Il trio criminale per come è stato descritto è sciolto, ha detto il presidente della corte, Roberto Spanò. Frizioni tra Silvia e Mirto c'erano già state, con lettere di insulti dopo la confessione di lui a maggio dell'anno scorso. E proprio questa mattina, in apertura di udienza, il difensore di Silvia Zane aveva chiesto di evitare incontri tra la sua assistita e Milani. Non lo considero più il mio fidanzato, lui mi manda le lettere, ma io non le apro, ha detto. Non voglio che il suo pensiero influisca sul mio, vorrei iniziare a pensare con la mia testa dopo 15 anni. Mi sento estremamente in colpa per quello che ho fatto, una parte di me vuole prendersi più colpe di quelle che ho, ha concluso la 29enne. Frasi pronunciate davanti a Lecchese, scoppiato in lacrime. Anche lui ha voluto fare dichiarazioni spontanee, Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per le ragazze, sono stato un idiota, ha detto.